Monte Cassiano ha presentato ieri alla stampa e voluto dire grazie ai due giovani campioni dell'atletica che rappresenteranno l'Italia i prossimi campionati europei per la categoria Promessi di Kaunas e Lituania dal 16 al 19 luglio ed ai mondiali allievi di Bressanone dall'8 al 12 luglio. Dopo aver portato lo scorso anno la Corradina ai mondiali juniors e quest'anno l'atletica Monte Cassiano ritenta all'avventura con Federica De Santis, ventenni triplista e Lorenzo Veroli specialista dei 400 ad ostacoli. Il sindaco di Monte Cassiano Mario Capparucci, l'assessore allo sport Luciano Luzzi, Nazareno Rocchetti, Massio fisioterapista che risolve i problemi muscolotendini dei giovani atleti ed il presidente Luciano Camilletti hanno evidenziato nei loro interventi la tenace e la passione di due giovani che con il loro grande impegno sono riusciti a conquistare con autorevolezza la maglia azzurra. Federica non è nuova all'azzurro avendo già vestito 5 volte la maglia in competizioni mondiali, europee e studentesche ed il recente 13,37 ottenuto ai campionati italiani di Rieti, che rappresenta anche il nuovo primato regionale, ha confermato le sue grandi possibilità. Lorenzo è invece un prodotto dell'atletica Monte Cassiano, ha cominciato con il calcio, poi a 16 anni si è avvicinato timidamente all'atletica, facendo bene l'anno dopo, nel 2007, nei 300 ad ostacoli. Nel 2008 è quinto ai campionati italiani allievi e quest'anno l'esplosione, prima nell'attività indoor con il titolo italiano nei 400 piani ai campionati di Ancona e poi in maggio a Bressanone con la vittoria al Brixia Meeting, manifestazione internazionale. Il tempo di 52,70 ottenuto è il nuovo record regionale ed ha anche il passe per questi mondiali allievi che si disputeranno per la prima volta in Italia a Bressanone con la presenza di 179 nazioni. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare la società e il mio allenatore Giuseppe Vigliacampo per avermi portato a questi livelli, poi Nazareno per i suoi consigli. Da questo mondiale speriamo di dare il meglio e di ottenere ottimi risultati. Diamo il meglio e poi quello che verrà.